E' un modo di far sì che l'architettura venga ad arricchire l'accumulo di presenze architettoniche e anche a stabilire delle gerarchie, malgrado la dimensione relativamente ridotta di questo edificio, 40 metri rispetto ai 200 metri delle torri retrostante, ha una capacità iconica che segna un punto di riferimento all'interno della città. Un altro esercizio interessante è questo progetto, questa realizzazione, fatta in seguito a un concorso per Dormund in Germania. Era un concorso internazionale che poi noi abbiamo avuto l'opportunità e la chance anche di vincere e di costruire, dove il tema dato, quello di una biblioteca della città, una Stadtbibliothek, era data dal comune su un terreno molto strano, un terreno a cavallo tra la città storica, che vedete indicata dalle frecce, e il grande vuoto antistante che è il taglio della ferrovia della fine dell'Ottocento. Allora noi abbiamo fatto un progetto, una scommessa curiosa, che diceva, no, ma guardate comune di Dormund, che avete sbagliato il terreno, non si può dare un terreno unitario per una biblioteca unitaria, là dove vi è una matrice storica, un segno tangibile delle vecchie mura, e il vuoto, è come tradire la città. E allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un progetto tagliando in due la biblioteca stessa. Abbiamo costruito una parte lungo le mura, sottolineando il limite lineare della città storica, e abbiamo gettato all'esterno un'altra parte di questa biblioteca con questo cono rovesciato che poi raccoglie le attività, le sale di lettura. E i due elementi sono stati collegati attraverso questi ponti per evidentemente dare quel rapporto di tipo funzionale che era richiesto dal programma. Quindi un progetto che è debitore della città al punto tale da rompere il programma unitario, una biblioteca è forse uno degli elementi più unitari che esiste nel carattere distributivo degli edifici, viene rotta per subordinarla a un valore di testimonianza della storia della città. Piazzale della Pilotta a Parma Piazzale della Pilotta a Parma, questa è una pianta storica della città, voi conoscete il sistema straordinario del monumentale della pilotta appena arrivato.